Il più cordiale saluto a tutti gli web spettatori per la seconda puntata di Pinco Pallone, oggi registriamo a Bovara di Trevi, siamo ospiti di Villa del Sole e innanzitutto ci teniamo con il direttore Stefano Baiani, ideatore di questo nuovo format web tv targato naturalmente Pinco Pallone a ringraziare gli 850 fedelissimi che ci hanno seguito nella prima puntata con la speranza che possiate rinnovare l'appuntamento con noi settimanalmente e perché no magari crescere contestualmente anche alla nostra trasmissione, approfitto appunto per presentare il direttore di 7calcio.it e ideatore di Pinco Pallone Stefano Baiani, buonasera Stefano. Ciao Simone, buonasera anche a tutti quanti. Soddisfatto allora di questa prima puntata? Sì, abbastanza soddisfatto anche perché insomma io con 7calcio ci ho sempre messo la faccia, anche in questo caso le statistiche sono sotto al video per cui sono facilmente visionabili da chi guarda il video, mentre tutte le altre statistiche solitamente sono sempre un po' così aleatorie, ma dovrebbero essere, dovrebbero, invece questa è una statistica certa. Carta canta o meglio il web canta. Web canta, bravo. Come appunto è il nostro format e continuo a presentare la nostra carrellata di ospiti con Riccardo Ciambottini, un amico presidente dello Spoleto Calcio. Buonasera Riccardo. Ciao Simone, buonasera a tutti quanti. E ancora direttore sportivo del Casa del Diavolo, ora viriamo sul campionato di promozione Gironea, Gabriele Mela. Buonasera Gabriele. Buonasera Simone, buonasera a tutti. E poi insomma un bomber, sempre chiamato il Pippo Inzaghi dei dilettanti, che ancora a 37 primavera, Antonio, giusto? Sì, ancora sì. Continua a dilettarsi nei campi di calcio. Antonio Brunelli, attaccante del Trevi. Buonasera Antonio. Buonasera Simone, buonasera a tutti. Bene, partiamo subito con un ringraziamento a tutti i nostri sponsor, a coloro i quali hanno sposato e perorato questa causa di Pinco Pallone, ma nella fattispecie, nella puntata odierna Villa del Sole, che è molto più di un ristorante, molto più di una location in cui trascorrere del tempo, molto di più di un solarium e molto di più addirittura di un disco club. Villa del Sole, l'estate è un'oasi davvero importante, dove trovi relax, divertimento, dove puoi abbronzarti, rilassarti e magari trovare un intrigante aperitivo. Non ci si viene solo l'estate, perché altrimenti, vista questa presentazione Stefano, sembrerebbe che nel momento invernale non ci sia nulla da fare, assolutamente no. È pieno di grandi appuntamenti con i disco club, cena, ballo, divertimento, matrimoni, chi più ne ha più ne metta. E grazie a un po' il patron, che è Castellani, che credo tu conosca molto bene, se vuoi spendere due parole. Sì, sì, assolutamente. Simone ha detto subito sì a questa nostra nuova iniziativa, l'ha sposata subito, garantendo di ospitarci in due occasioni. E poi magari potrebbe esserci anche un discorso ulteriore da affrontare poi in un secondo momento. Però, insomma, è stato molto disponibile, molto intelligente a sposare questa nostra nuova iniziativa. Bene, possiamo quindi subito partire con il focus sui campionati di riferimento, dei quali naturalmente tratta la nostra trasmissione, dal campionato di eccellenza regionale, passando per i tornei di promozione la Serie B Umbra, Girone A e Girone B, con in mezzo di nuovo l'appuntamento con la nostra rubrica Diamo i numeri, con alcuni numeri e curiosità statistiche, attinenti appunto il mondo del calcio dilettantistico, nella fattispecie ciò che è accaduto nella diciassettesima giornata nei nostri campi della Regione Umbria, e poi focus finale sui quattro gironi del torneo di prima categoria. Partiamo con il campionato di eccellenza, dove abbiamo il presidentissimo dello Spoleto, e quindi approfitteremo per sviscerare alcune situazioni sia inerenti allo Spoleto Calcio che al campionato medesimo. Ora andiamo a dare lettura dei risultati del diciassettesimo turno del campionato di eccellenza regionale, che ha visto il Foligno vincere per due reti a zero in casa con la Ponte Vecchio, e frenare lo Spoleto ad Orvieto, Riccardo, ma un pareggio avvenuto in extremis con due calci di rigore, che comunque può essere visto come un punto guadagnato, poi ne parleremo. Derby della Sisate, Angelana Sisi su basio 1-1, Castel del Piano Massamartana 0-0, a San Giacomo di Spoleto, Lama batte Ducato 4-2, LRA Ponte Valleceppi 1-2, Foligno Ponte Vecchio 2-0, Narnese Sanzisto 1-1, Orvietana Spoleto 2-2, a Città della Pieve Sansepolcro batte Pievese 2-1, per una classifica che recita Spoligno in testa a quota 39 punti, a seguire Voluntas Spoleto, anzi, perdono, Spoleto Calcio, 34 punti, Vivi Alto Tevere Sansepolcro 30, Sanzisto 27, Castel del Piano 26, Narnese 24, Orvietana 23, LRA 21, Massamartana 20, Angelana 17, in zona play-out Ducato 16 punti, exequo con il Ponte Valleceppi, Ponte Vecchio 14, Assisi su basio 13, chiude la Pievese con 9 punti. Prima di stimolare Stefano Baiani, che intanto si prepara per una panoramica attenta, un focus dettagliato su quello che è stato il 17esimo turno del massimo torneo regionale, andiamo a dare ai nostri spettatori due notizie appunto attinenti a questo campionato. Nella giornata di mercoledì è arrivato l'esonero per il tecnico dell'educato calcio Fausto Ricci, che è stato sostituito da Francesco Raggi, che appunto prenderà il timone tecnico della compagine di San Giacomo di Spoleto insieme a Lucio Stella. Altra notizia di mercato, Riccardo Lucarino, classe 93, ex Sanzisto e De Ruta, difensore centrale che andrà a rimpolpare la retroguardia, finora a dire il vero non molto coriacea, dell'Angelana, altra compagine che ha bisogno assoluto di punti e di risarire la china in classifica. A te Stefano su un po' un sommario di questo 17esimo. Un piccolo sommario dell'ultimo turno, diciamo che dalle partite che erano in programma era un po' prevedibile che potesse essere a favore del Foligno, visto che insomma il pezzo specifico dell'Orvietana era completamente diverso da quello della Ponte Vecchio secondo me, però è un turno che sicuramente è stato favorevole anche a Lama. Una squadra sempre un po' meno nominata delle altre che però alla fine insieme allo Spoleto occupa la seconda posizione a pari merito, per cui vanno dati giusti meriti anche a questa compagine. Poi il gran colpo del Ponte Valleceppi, direi che ora ha un signore allenatore in panchina e anche vittoria importante del Sansevolco, anche se forse la Piavese in quella circostanza meritava Orcosina di più. Diversi pareggi, ben 4 su 8, per cui una bella percentuale, per cui chi ha vinto ha messo in cascina punti pesanti in questa circostanza. Io per ora credo di aver... Sì, la panoramica è chiara rispetto allo sviluppo del campionato. Un campionato, Riccardo Ciambottini, che vede per ora un padrone, che è il Foligno Calcio, a quota 39 punti, ma che non riesce a imprimere quei giusti giri nel motore come era lo scorso anno nel torneo di promozione, probabilmente perché c'è uno Spoleto, che è un'altra squadra molto attrezzata, probabilmente la profondità di rosa del Foligno Calcio è superiore, ma negli unici, secondo me, lo Spoleto è una squadra molto importante, e poi questo lama di Guido Vicharelli che sta sorprendendo tutti. Sicuramente quest'anno è un campionato molto livellato. Probabilmente alla fine avrà la meglio il Foligno, perché ha una rosa molto più ampia delle altre, ha un'organizzazione societaria importante, ha un pubblico che fa sempre la sua parte, quindi probabilmente alla fine avrà la meglio il Foligno. Però comunque sia Spoleto, Lama e anche le altre squadre che stanno risalendo, come Orvietano e Sansepolcro, sono tutte compagini comunque ben attrezzate, che probabilmente l'anno scorso il torneo di promozione era un torneo a senso unico sicuramente. Noi onestamente ce la giochiamo, noi ce la giochiamo fino in fondo, domenica abbiamo preso un ottimo punto ad Orvieto contro una squadra che io ero stupito inizialmente per come fosse partita, perché ha una rosa estremamente competitiva, giocatori importanti. Domenica abbiamo dimostrato, oltre che grande cuore, grande carattere, nel primo tempo è partito meglio sicuramente l'Orvietana, nel secondo tempo abbiamo creato una mole di gioco devastante, abbiamo chiuso l'Orvietana nella sua metà campo, nonostante i gol siano arrivati gli ultimi cinque minuti, io credo che sia nettamente meritato questo pareggio, perché ripeto, abbiamo creato occasioni, abbiamo creato gioco, e soprattutto si è fatto vedere il cuore dei giocatori, questo sicuramente è anche merito del mister naturalmente. Tu hai detto, scusa Simone, hai detto dei gol, sono arrivati alla fine, mi sembra che la differenza è un po' quella, dei gol fatti con Infoligno, perché a livello difensivo mi sembra che i numeri sono abbastanza simili, invece il gap sono una quindicina di gol in meno, rispetto a Infoligno. Anche se bisogna fare una nota statistica, 16 reti sono arrivati su due gari, è vero anche quello. No, quello devo dire onestamente che i giocatori d'attacco che abbiamo a Spoleto onestamente non li cambierai con nessun altro, quindi sotto questo punto di vista non tenevole da ragione. Non è che la voglio, per forza, assolutamente. Mi piace coinvolgere sul campionato di eccellenza anche il direttore Mela. Orvietana che può rientrare in Lizza per la lotta playoff? Ha l'organico, le capacità, le strutture, un allenatore e un blasone per il quale può permettersi di rientrare in Lizza? Guarda Simone, sicuramente parliamo di, se non ricordo male, dietro a Nestor, la società più antica dell'Umbra, nel 1909 credo, qualcosa del genere. Quindi un po' il blasone, un po' anche, parliamoci che hanno preso il Tamba Fiorucci, che in fatti di salvezze, credo abbia il record su record, Torre Cuso, Trestina, Orvietana e Playout, quando subentrò a Marini. Poi vedi il roster, davanti a Politori, che nel Lazio, parte che è un amico, ma nel Lazio è consideratissimo, magari non è un grandissimo bombe, però è uno che può fare la differenza. Poi c'hanno Alessandro Locchi, che domenica poi, se non ricordo male, ha fatto questo rigore. Ha un brichetti dietro, viene da Civita Vecchia, è un ragazzo, un bresciano, uno che nel Lazio, tanta roba, tanta roba. Poi, Idromela, Dida, Missaia, adesso tanti romani. Vieni che ho rivisto il Missaia e i tanti figli. Ecco, quindi c'è, sicuramente, ecco, vedendo la classifica adesso, cioè l'Orvietana si può rinaggiare anche in ottica playoff, perché, parliamoci chiaro, sta a tre punti al Zanzisto. Poi penso con un diretto da giocare, cioè, con un campionato, mezzo campionato ancora da disputare, cioè, qui è un campionato, cioè, non dico indescrivibile, ma poco ci manca. Se pensiamo che era su Bassio, quando è arrivato Alessandria, era l'ultimo a nove punti, adesso è a tredici punti, a quattro punti da Salvezza Diretta. E Domenica ha fatto, secondo me, sentendo, adesso io purtroppo non ho potuto vedere la partita, ha fatto una buona gara, correggendo poi in un campo al Miguel di Santa Maria di Lianci. Completamente d'accordo. Mi piace sollecitare, invece, Antonio Brunelli, su quella che un po' sono i bassi fondi della classifica. Lo scorso anno disputammo insieme il campionato di promozione Girone A, dove, Antonio, ricordi bene, c'erano Pieve e Pontevecchio, che sono state due nostre competitor. Due squadre che non si sono poi rinforzate moltissimo. Probabilmente, a livello di organico, quando si va nella categoria superiore, qualcosa si paga. Probabilmente Pieve e Pontevecchio la stanno un po' pagando. Assolutamente sì, perché, a mio avviso, è questo. C'è un gap molto diverso, secondo me, tra promozione e eccellenza, e se non ti attrezzi, anche perché, se non sbaglio, come hai detto bene te, la Pontevecchio, sono otto undicesimi gli stessi che abbiamo affrontato l'anno scorso. In più, adesso si è rotto Tramontano, mi sembra, ha fatto il crociato, quindi non hanno nemmeno problemi avanti. E domenica a Foligno, pardon, non c'era nemmeno Bufi. Esatto, Bufi non c'era, quindi la Pieveese, a mio avviso, l'avevo pronosticata che avrebbe fatto, secondo me, fatica. Che poi nel calcio non si sa mai, però, insomma, già l'anno scorso, insomma, sì, era una buona squadra, ma non mi aveva fatto una grossa impressione. Quindi, in eccellenza, insomma, sta trovando difficoltà palesi. Per cui, arrivo a chiederti un pronostico, al di là che non voglio farti fare il gatto nero della categoria, però ribattiamolo al contrario. Chi ha più possibilità di uscirne fuori da questa situazione tra Ducato, Ponte Valleceppi e Angelana, che comunque, ricordiamo, hanno tre organici molto importanti, di rilievo, Ponte Valleceppi. Io vedo, vedo sì, assolutamente. Vedo, vabbè, Angelana e Ponte Valleceppi le vedo, secondo me, in una salvezza tranquilla, a mio avviso. Anche la Subasio, adesso, ultimamente, sta in serie positiva, però, insomma, sicuramente sta, sta, insomma, faticando un po'. Dobbiamo vedere adesso se alla Ducato ci sarà lo scossone con il cambio allenatore, però, insomma, io, Angelana e Ponte Valleceppi, insomma, le vedo, le vedo fuori dalla bagarra. E io, prima di fare, pensavi di cavartela, Riccardo, ma io, una domanda scomoda, ora te la faccio, eh, un pochino brucia pelo, però, prima andiamo a dare lettura del campionato di eccellenza alla diciottesima giornata, il prossimo turno, che vedrà contrapporsi una sfida a salvezza, davvero al cardiopalma tra Sisi Subasio e Pievese, a seguire Ducato e Lera, Lama, Castel del Piano, Massa Martano-Orvietana, Ponte Valleceppi-Narnese, Ponte Vecchio-Angelana, San Sisto-Spoleto, che ricordiamo verrà anticipata al sabato, e Sansepolcro-Foligno, che si giocherà sempre la domenica, ma anziché alle ore 14.30 a partire dalle ore 15.00. Riccardo, la situazione a Spoleto societaria negli ultimi anni è stata davvero una lotta incredibile per la sopravvivenza, e tu sei stato sempre un po' al timone a cercare di tessere le fila per mantenere in piedi questo giochino rispetto a una società, soprattutto a una città che ha grandissima tradizione calcistica e non solo. Roberto Damaschi, Erbalo Alcipreti, Alberto Del Frate, Riccardo Ciambottini, quindi personaggi che a livello regionale e non solo hanno scritto pagine del nostro calcio è una rosa secondo me molto attrezzata che sta lottando per il vertice o quantomeno per restare almeno nella griglia playoff. La mia domanda è ma alla luce di quella che è la situazione societaria e i rapporti con l'amministrazione comunale abbiamo letto di tutto, ma se lo Spoleto calcio si ritrova in Serie D cosa fa? Devo dire che ultimamente i rapporti con il Comune li stiamo appianando. Avremo un incontro anche a breve per discutere di varie tematiche. Abbiamo visto che grazie al campionato che stiamo facendo stiamo riportando un po' di entusiasmo anche a Spoleto, quindi fra la tifoseria e anche fra qualche imprenditore che sta facendo capolino, quindi è quello che cercavamo a Spoleto da anni, nel senso qualche imprenditore Spoletino perché oggettivamente sempre imprenditori, cioè gli imprenditori da fuori va bene, però giustamente se non c'è l'imprenditore Spoletino quello da fuori dice perché devo rimanere io quando a Spoleto non frega niente a nessuno. Quindi sembra che i tasselli si stiano mettendo tutti per il verso giusto quindi credo che fosse vera quell'ipotesi che hai detto te insomma secondo me si può costruire un bel progetto cosa che stiamo iniziando a costruire appunto già da qualche mese insomma stiamo mettendo le basi per un progetto importante. L'ho anche fatto felici i tifosi dello Spoleto Calcio che prima ho denominato in maniera errata Voluntas e Spoleto perché c'è stato il cambio di denominazione societaria quest'anno. Stefano se sei d'accordo passiamo alla Serie B Umbra il campionato di promozione andiamo assolutamente a dare l'attura dei risultati del torneo di promozione Girone A abbiamo qua uno degli addetti a lavori il direttore sportivo del Casa del Diavolo Gabriele Mela e soprattutto insieme a lui andiamo a commentare lo sviluppo di questo girone e anche la situazione del Casa del Diavolo. Diciassettesima giornata risultati del torneo di promozione Girone A Branca Tiferno Big Match finisce 1 a 1 che permette l'aggancio in vetta alla Trasimeno che vince 1 a 0 di misura sul fanalino di Coda Corciano Casa del Diavolo Ventinella 0 a 2 Marra San Feliciano Pietralunghese 1 a 0 Montone Tavernelle 1 a 0 Pianello San Marco Juventina 3 a 2 Piccione Mugnano 2 a 0 Selcinardi Castiglionese Macchie 0 a 0 per una classifica che vede in testa la coppia Tiferno Trasimeno con 39 punti a seguire il Montone 34 Marra San Feliciano e Branca 1969 33 Tavernelle 30 Ventinella e Casa del Diavolo 27 più staccate Castiglionese Macchie Piccione 21 Selcinardi 18 Pianello 17 San Marco Juventina 16 Mugnano 15 Pietralunghese 14 Chiude Mestamente la classifica il Corciano con soli 2 punti all'attivo Gabriele Casa del Diavolo che aveva disputato a mio avviso un ottimo girone d'andata una rosa rinnovata dove sei stato un po' tu l'architetto molto giovane e che stava proponendo anche un buon calcio ora 3 sconfitte consecutive un punto nelle ultime 4 gare ho notato che nelle prime 25 una media di quasi 2 gol a partita ora si fa fatica anche a segnare cosa si sta inceppando secondo me ci siamo un po' adagiati essendo una squadra molto giovane 21 anni e mezzo di media 12 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso poi tutti nati dal 97 in su tolto Avellini che è un 93 magari forse siamo partiti nel miglior modo possibile forse nessuno nessuno se l'aspettava però indubbiamente le ultime tre partite specialmente domenica secondo me ci siamo ripeto un po' abbiamo spento un po' la luce magari diamo per scontato delle cose delle giocate invece non è così perché questo è un campionato tosto poi tu l'anno scorso l'hai affrontato il guardo anche qui posso dire che non so Antonio se sei d'accordo ma a livello qualitativo e soprattutto di competitor per stare lassù c'è una differenza notevole rispetto al girone B sì no no sì assolutamente sì vabbè squadra attrezzata ovviamente Tiferno Trasimeno Trasimeno ma lo stesso Ventinella che comunque sta secondo me un pochettino viaggia lì nella metà classica però secondo me è una squadra di tutto rispetto insomma campionato sì assolutamente tosto poi ecco ripeto vedo Trasimeno e Tiferno secondo me se la lotteranno fino alla fine insomma a proposito della lotta per questo titolo di campione di promozione in girone A per il salto in eccellenza Stefano c'è stato un risultato nel denesimo piccolo stop anche se in una gara difficile come a Branca per il Tiferno Lerchi e la Trasimeno ne ha approfittato ma con quanta fatica in effetti è stato un aggancio un po' particolare perché comunque uno si aspettava che la Trasimeno travolgesse un po' il Corciano è vero che c'aveva diversi assenti su tutti quello di Bevilacqua che sicuramente è il giocatore insomma in più di questa squadra però insomma ricordiamo che tra l'altro che il Corciano ha anche sbagliato un ricordo sullo 0-0 che magari poteva dare tutta un'altra un altro finale della partita poi c'è il pareggio del Tiferno che a Branca diciamo è comunque da considerare un buon risultato però per come è arrivato alla fine con tutta quella polemica sul Gona all'un lato dopo un bel po' diciamo dal di tempo dopo che era stato convalidato per cui diciamo le polemiche non sono mancate sicuramente è una giornata che ha rilanciato il Ventinella proprio a scapito del Casa del Diavolo perché Ventinella nelle ultime giornate ha cominciato a vincere come si pensava sin dall'inizio della stagione e dunque diciamo è ancora un po' staccata dalla zona playoff però sicuramente ha in mano Domenica un match importante perché Domenica ospita la Trasimeno per cui diciamo diventa un po' l'arbitro sia di se stessa che anche del campionato perché c'è una squadra Stefano secondo me un po' sottovalutata che con il Gualdo Casacastalla abbiamo affrontato in Coppa che è il Marra San Feliciano e secondo me il Marra ha delle individualità importanti è una squadra che forse non ha tutta quella continuità necessaria per stare nelle primissime posizioni però sicuramente quando ingrana la giornata giusta è difficile superarla ma anche un grande spirito squadra combattiva che rispecchia un po' il suo timoniere Tempesta che da giocatore ce lo ricordavamo bene con la sua garra proverbiata sia Tempesta che il timoniere quello il comandante diciamo il presidente Miccio che insomma è uno che sprona forte anche durante le partite Riccardo altra domanda bruciapelo tanto ormai ti hai sciolto abbiamo sciolto il ghiaccio e chi lo vince questo campionato di eccellenza no di promozione gironea tra Tiferno Lerchi e Trasimeno chi vedi favorito secondo me alla fine per l'organico per la guida tecnica l'organizzazione tutto quanto lo vince da Tiferno secondo me e anche magari non perché non le abbia le Trasimeno ma anche delle capacità economiche importanti so che la città di Castello stanno facendo stanno facendo grossi progetti hanno una società molto forte e molto ambiziosa poi ripeto tutto è possibile però secondo me la squadra accreditata è la Tiferno bene andiamo a dare lettura del prossimo turno del campionato di promozione gironea la diciassettesima giornata che vedrà contrapporsi Castiglionese Macchi e Marra San Feliciano Corciano Piccione Montone Selcinardi Mugnano Casa del Diavolo Pietralunghese San Marco Joventina Tavernelle Branca Tiferno Pianello e Ventinella Trasimeno Stefano appunto Ventinella Trasimeno credo sia il match clou di giornata un po' il match clou esatto e poi attenzione anche a questo Montone che in serie è utile da molte giornate poi sviscereremo alcuni numeri davvero incredibili di questa squadra sì sì esatto il Montone comunque è una squadra che ha fatto bene sin dall'inizio ci ha avuto un attimo di pausa non è riuscita per ora a tenere il ritmo delle prime due però sicuramente è una squadra importante a giocatori di livello lo stesso Ceccarelli che ha segnato domenica è un giocatore che arriva dal Selcinardi ed è un giocatore importante che i gol l'ha sempre fatti domenica vedo qui sul programma che c'è anche un interessantissimo Tavernelle Branca che insomma il Tavernelle domenica ha perso però è in pienissima corsa per i play-off e poi c'è Latiferno che ospita il Pianello che arriva da una partita da un successo importante che ha calaverizzato sicuramente la squadra per cui Latiferno sicuramente ha i favori del pronostico però Pianello venderà sicuramente cara la pelle perché è una squadra coriacea un po' come il suo allenatore insomma Sì effettivamente poi c'è un pietralunghese San Marco Juventina autentica sfida salvezza è uno spareggio dove si giocano moltissimo queste due squadre tra l'altro la pietralunghese nel mercato di riparazione Gabriele ha potuto mettere in cascina secondo me giocatori importanti per questa categoria lo stesso Carpinelli che poi per carità al di là delle sue primavere a parte conosco anche Maurizio Dassi che è un amico il loro mister ci sentiamo spesso mi diceva magari che riusciva a prendere qualche giocatore vai a stringere Sciongo ha fatto la serie di Avila Biagio ex Perugia 96 Carpinelli ha fatto sempre gol poi Ciano Provincia Dura Morodei che è la bandiera un po' Pascolini indietro cioè si è rafforzata con due o tre giocatori ma la stessa San Marco Juventina che è Senzi in Porta Spitaleri cioè vai a vedere squadra e materasso cioè per il discorso di prima questo è un campionato veramente forse rispetto al girone B voi siete testimoni più di meno sì sì non sono d'accordo forse c'è vai a vedere il Piccione stesso cioè il Piccione ha preso Claudio a mano gay che ha tre partite quattro gol roba cioè che poi Antonio sembra che che Claudian nell'ambiente di Piccione trovi la sua dimensione sì esalta esordio contro di noi l'anno scorso doppietta fece subito pronti via purtroppo purtroppo quella partita un po' maledetta no però sì il giocatore secondo me poi per rendere al meglio deve trovarsi a proprio vagio deve sentirsi coccolato poi magari di per sé Claudian è un ottimo giocatore in più se sta in un ambiente dove viene esaltato secondo me poi fa la differenza e secondo me la sta facendo lo dimostrano i numeri perché poi nel calcio quello che contano sono i numeri Riccardo tu hai giocato a calcio anche a buoni livelli diciamo che io mi sono allenato con te più che ci ho giocato però mi piace toccare anche questo aspetto perché al di là dello sviscerare numeri, situazioni risultati, statistiche il calcio è bello anche raccontarlo sotto altri punti di vista Antonio diceva secondo me una determinante fondamentale un giocatore per esprimere al proprio massimo non deve solo avere la maglia numero 9 e il rimborso barra stipendio chiamiamolo come vogliamo giusto ma servono una serie di situazioni che concorrono soprattutto a livello psicologico che fanno la differenza l'ambiente è una delle componenti probabilmente fondamentali per il giocatore insomma ecco io voglio portare un esempio che credo che sia l'ampante di quest'anno ne è capito l'eccellenza Mauro Veneroso Mauro Veneroso ha trovato io oltre che è un ex giocatore un mio ex giocatore un amico ha trovato a lama ha trovato un ambiente che lo fa stare tranquillo un ambiente che lo stima e lui quando si sente come diceva prima il bomber importante tira fuori tutte le qualità che ha quest'anno sta veramente portando avanti non dico la baracca da solo ma sta facendo un campionato eccezionale sicuramente è il vero uomo in più di questo lama assolutamente targato Guido Piccarelli quindi assolutamente sì l'ambiente è fondamentale bene quindi passiamo al torneo di promozione girone B ci tengo Stefano a sottolineare il fatto che tra virgolette conflitto di interessi mi sembra un parolone chiamiamo questa trasmissione pinco pallone pinco pallone sta a significare che ognuno di noi un pinco pallone qualsiasi che vuol dire la sua qui siamo una serie di addetti ai lavori che vogliono un pochino raccontare quelle che sono le dinamiche le vicissitudini del calcio nostrano e mi permetto di fare da come dire da tramite da conducente di queste piccole ore sei un giornalista di S giornalista barra di S poi ci sarebbe da aprire un mondo rispetto a questa dicitura però andiamo a parlare del campionato di promozione girone B andando a dare lettura dei risultati della diciassettesima giornata blitz della Giulia Spello ad Amelia Merina 0 Giulia Spello 1 Campitello Monte Castello Vivio Roboante 4 a 3 a pannaggio della compagine Ternana Giove Terniest 1 a 0 Gualdo Casa Castalda Viole 2 a 1 Montefranco Olimpia Tirus 0 a 0 Nestor Novagualdo Bastardo 2 a 0 Petrignano MC 98 4 a 1 Sporting Pila San Venanzo Abbiamo un altro risultato che è il recupero avvenuto nella giornata di mercoledì 16 gennaio Olimpia Tirus Sporting Pila risultato finale Olimpia Tirus 3 Sporting Pila 1 che modifica la classifica in questa maniera Nestor in testa quota 43 punti ancora imbattuta a seguire Gualdo Casa Castalda con 39 punti staccato di 6 lunghezze il campitello a 33 San Venanzo 28 Amerina Olimpia Tirus a quota 26 al quinto posto ma che non basterebbe in questo momento per disputare i playoff visto il distacco dalla seconda posizione Montefranco 23 Giove 21 e qui Bagarra nella zona salvezza barra play out Nuova Gualdo Bastardo 20 Viole 20 Monte Castello Vibio 19 risale il Petrignano a quota 18 Sporting Pila e Giulia Spello 14 chiude la classifica Fanalino di coda Terni Est con 7 punti Stefano una classifica che a mio avviso si è delineata alla grande corrono in tre in avanti dal Monte Franco dalla Merina praticamente dalla sesta settima della classe a scendere tutte coinvolte tra la salvezza e la lotta play out sono un po' nel limbo diciamo ancora alcune non riescono a decifrare bene qual è il reale obiettivo diciamo comunque prima di tutto salvarsi mantenere la categoria comunque è fondamentale poi diciamo che in questa zona bassa spiccano i colpi comunque della Iulia Spello e del Petrignano perché il Petrignano diciamo ha comunque conquistato una vittoria importante contro un avversario di rilievo come la MC tra l'altro Stefano Proietti seconda vittoria in tre giornate seconda vittoria in tre giornate ma poi insomma è stata una vittoria netta non è che un risultato bugiardo diciamo è stato proprio in 4-1 che ci sta tutto la vittoria dell'Iulia Spello è pesantissima perché è la seconda di fila arriva in casa di un'avversaria che aveva fatto molto bene fino adesso per cui sono due squadre che si rilanciano alla grande nella zona che scotta di contro il Pila che domenica stava vincendo poi ha pareggiato 1-1 oggi ha perso il recupero che era una partita abbastanza importante per cui già diciamo che il Pila è in una situazione un po' più delicata perché magari contava molto sui punti a disposizione di questo recupero esatto per quanto riguarda la testa come dicevi tu diciamo tre vittorie abbastanza scontate tra virgolette sudate sudate soprattutto quella del Gualdo perché insomma al trentesimo avete preso il gol poi dopo insomma però secondo me è in questi casi che si vedono un po' le squadre fatte con gli attributi perché comunque ribaltare nel giro di 15 minuti una partita che si era complicata particolarmente insomma non è facile non è da tutto tra l'altro mi piace tirar fuori un aneddoto le realizzazioni sono arrivate dai due subentrati Leonardo Angeletti e Paolo Bellucci entrambi colpiti nella giornata di venerdì ai quali formano le condoglianze insieme a tutta la redazione di 7calcio.it un lutto dei propri nonni e sono stati due a risolvere la gara quindi a volte è bello anche vedere questa magia quasi la provvidenza che è andata a toccare con mano il Carlo Angelo Luzzi e regalare la gioia a questi due ragazzi esattamente poi la giornata non so se lo volevi fare tu però ha registrato anche questo gesto che non è solito non è consueto di Jacopo Tassone del Campitello che insomma si è visto dare questo rigore invece non lo ha accettato perché il colpo di mano l'ho dato io per cui non è rigore quindi insomma io ho fatto il titolo applausi a scena aperta perché comunque è un gesto che non è che tutti farebbero la domanda la faccio a Riccardo perché altrimenti la risposta sarebbe scontata appunto quindi vado da Gabriele Gabriele ma tu cosa dici a un tuo giocatore in una finale playoff che fa un gesto del genere dai siamo sinceri quando si vince siamo tutti perbenisti quando si vince sicuramente ha fatto un gesto che va non lo ha dato di view questo sia chiaro è una battuta una provocazione naturalmente però alla fine il Campitello ha vinto 4-3 ha sudato un po' 2-0 se non sbaglio per carità magari essendo un ragazzo avrebbe fatto anche sullo 0-2 perché tanti ragazzi su queste cose per fortuna diciamo sono ingenui sono istintivi forse però sicuramente è un gesto che va rimarcato più e più volte e guarda caso questo gesto è stato fatto da un giocatore del Campitello che è uno dei più floridi e meglio attrezzati forse vincenti settori giovanili dell'Umbria sicuramente forse non è un caso magari anche questa cosa non lo so adesso io parlo da esterno no ma è stato un grande bacino su cui Riccardo ha potuto attingere negli anni la Ternana le stesse squadre dello Spoletino in qualche situazione che navigavano magari in categorie superiori è davvero un fiorallocchiello il settore giovanile del Campitello credo che sia uno degli esempi e dei modelli e dei modelli da seguire in Umbria insomma ecco assolutamente poi spesso è legato anche a società professioniste quindi hanno anche diverse insomma hanno un bel raggio di hanno un bel bacino insomma ecco sui giovanili diciamo sono da Serie A no no settore giovanile ripeto è un modello da seguire quello del Campitello è un modello tra l'altro anche Domeni ha giocato dall'inizio credo esordio non so se era proprio esordio ma un 2002 Molinari che insomma ha anche ben impressionato mi dicono per cui insomma sicuramente è una conferma non è affatto un dettaglio Antonio Brunelli a Nestor strepitoso perché parli con me dopo aver citato un giocatore del 2002 non ho capito però state vicini con gli anni tu c'hai 2002 anni mi ricordo lo scorso anno mi fece l'impressione pazzesca quando venne sostituito Daniele Fornetti per far entrare Alessio Passeri 24 anni di differenza e gli dici mentre usciva Daniele Daniele ora che smetti perché è arrivato il momento invece ancora ci prova e continua naturalmente saluto affettuosamente Daniele e Nestor che sta davvero volando una guida tecnica notevole grande organizzazione societaria quattro allenamenti a settimana un campionato segnato secondo te Antonio no secondo me no allora al di là che il mister Montecucco comunque esperto ha sempre smorzato gli entusiasmi però diciamo che la Nestor dagli addetti ai lavori insomma è partita insomma con i pronostici con tutti i pronostici del caso secondo me il Gualdo è più forte devo essere onesto per Rosa perché secondo me i tre centrali che ha il Gualdo non ce l'ha nessuno nel campionato un parco attaccanti davanti che ha il Gualdo non ce l'ha nessuno in mezzo al campo Galgioli Procacci secondo me ripeto a livello di Rosa è più forte quello che farà la differenza secondo me se la farà perché adesso non sto dicendo sarà il discorso dei quattro allenamenti quello che poi secondo me ha avuto il Foligno l'anno scorso perché in un campionato di promozione abbiamo fatto quindi quanti sono? 15 squadre? 16 squadre 15 si allenano alle 6 e mezzo della sera insomma e fanno tre allenamenti la Nestor insomma fa il quarto allenamento secondo me alla fine è quello che poi farà la differenza se poi farà la differenza impianti da quest'anno insomma importanti perché si allenano su impianti si stanno strutturando per la categoria superiore si stanno strutturando per un progetto a lungo termine questo è poco ma sicuro ripeto secondo me per valore di Rosa il Gualdo è più forte se ci sarà questa ripeto la differenza secondo me la farà semmai eventualmente il quarto allenamento io mi avvalgo della facoltà di non rispondere naturalmente però 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 il ragionamento che ci sta insomma comunque sono due bellissime squadre assolutamente però ripeto secondo me è questa perché la profondità di Rosa io adesso davanti sono in sei possono giocare tutti a sei dietro tre centrali in quella maniera non c'era nessuno e ne devono giocare due in mezzo io ripeto sono la stessa Rosa dell'anno scorso insomma con qualche piccola variazione quindi conosco bene lavoro diciamo iniziato l'anno scorso perché è portato avanti quest'anno quindi so di che cosa parlo non parli impianti struttura il Gualdo è serie A quindi insomma avessero fatto il quarto allenamento secondo me avrebbero avuto so 50 punti secondo me insomma quindi attrezziamoci Presidente per questo tocca dirlo dal Presidente che Rinaldini caro Rinaldini attrezzati per il quarto allenamento perché ha detto Brunelli che vincete sicuro per cui è una polizza questa sicuramente saranno contenti io mi avvalgo nuovamente della facoltà di non rispondere e cerco di toccare anche Ferro nella zona che scotta invece Riccardo secondo me la Giulia Spello ha innestato dei giocatori importanti in questo mercato di riparazione su tutti Cristian Silveri che non ha assoluto bisogno di presentazione al di là delle problematiche di salute che purtroppo l'hanno coinvolto in questo inizio di stagione lo stesso Gaggi Moroco che lo scorso anno fece benissimo all'Oratorio Bosco nel girone B appunto di promozione quest'anno era la terza punta di fatto del Ducato il Petrignano ha una rosa nettamente superiore rispetto ai competitor mi permetto di dire se non altro anche per per il budget che ha avuto a disposizione una delle decadute del torneo di eccellenza chi vedi come squadra più attardata e più in difficoltà al di là del Terniest che purtroppo per il Terniest è un po' distanziato dalle altre onestamente è un po' una bagarre lì sotto perché comunque ripeto come hai detto te lo Spello si è rinforzato in maniera importante Petrignano è una cosa che onestamente c'entra poco e poi c'ha un Anselmi in più adesso Anselmi fa veramente la differenza anche in eccellenza Domenico ha fatto 4-5 discese solo lui lo stesso Pila ha fatto un paio di acquisti da poco se non sbaglio due giocatori che possono assolutamente dargli una mano ma che nell'ultimo periodo hanno avuto qualche fermo qualche problematica per cui forse il Pila in questo momento ha bisogno di carne al fuoco fresca per riuscire a assolutamente forse una squadra un pochino meno esperta probabilmente è il Monte Castello in questo momento Monte Castello Vibbio anche per poi vedo il Viole a 20 punti e questo onestamente in questi ultimi anni è una sorpresa insomma con Gigliarelli avevano fatto molto bene se devo dire vanno fatti complimenti il problema reale è stato quello per il Viole sono mancati i gol di Fagotti ma li ho visti domenica faccio i complimenti al tecnico perché è una grande organizzazione difensiva assolutamente una squadra ben messa in campo che occupa molto bene negli spazi che ha un suo credo e che secondo me può comunque mettere in difficoltà tutti l'innesto di Ameti che non è una prima punta Gabriele è una seconda punta attaccante esterno ma che insomma se sta bene fisicamente ce l'ha la confidenza con il Viole Flavio è vero che viene da un brutto infortuno al ginocchio però secondo me è stato un acquisto top perché parliamoci chiaro non è che tutti gli allenatori predicano il calcio di Guardiola e Tiki Taka bisogna guardare anche un po' al Soto una concretezza in conseguenza con le caratteristiche che ha Flavio Amedi magari imposti una partita un po' tra virgolette di rimessa palla sopra la difesa a Medi ha una fraccata non indifferente lo stesso Righetti per cui hanno Alessandro poi c'è il Gifi Francesco Facotti cercano in mezzo a campo che come play è uno dei più aspetti per la categoria da 33 anni cioè una buona squadra poi l'anno scorso da una promossa se non ricordo è entrata in zona playoff che poi non si sono fatti però ha disputato un grande campionato come poi vedo faccio una piccola postilla sullo spello Gagli Morogo Ongamanga Silveri però non scordiamoci che domenica ha segnato Francesco Fermanelli 97 uno dei più grandi talenti che c'è avuto il Foligno Gagli che purtroppo è stato fermo due anni e mezzo era uno dei migliori prospetti però è un giocatore che forse una delle pochissime prime punte che sono ancora in umbria e magari ecco sono contento che piano piano perché non pare ma anche se hai 20 anni due anni di inattività un po' le senti e rientri in promozione in un campionato dove guarda caso in due gironi quattro squadre in due gironi sono neopromosse quindi è un campionato duro nonostante magari il livello tecnico non è la Serie A la Premier League però magari c'è un pochino in più come dice prima Antonio trovi la prima squadra la prima classifica quattro allenamenti poi trovi qualche giocatore che abbiò da fare categorie quindi prende qualche soldo cioè in confronto alla prima categoria anche lo scotto di categoria secondo me è un altro campionato come dà la promozione in eccellenza perché c'è la Piavesse che gli ultimi tre anni ha fatto tre volte il playoff con il caccia a mano se non ricordo male o capo canogliere o vice capo canogliere è ultima con la stessa squadra il che probabilmente dà la reale dimensione di quello che stai che stai dicendo per completezza dunque per il torneo di promozione girone B andiamo a dare lettura di quello che sarà il prossimo turno diciottesima giornata che vedrà contrapporsi ad Amelia Amerina e Gualdo Casa Castalda a seguire Giulia Spello Montefranco Monte Castello Vibio AMC 98 Nuova Gualdo Bastardo Giove Olimpia Tirus Petrignano San Venanzo Nestor Terniest Sporting Pila Biole Campitello tre trasferte Stefano per le prime tre della classe molto ostiche forse la più dura è quella della Nestor a San Venanzo sì beh un po' tutte un po' tutte secondo me la Nestor è un derby per cui insomma oltre alla forza del San Venanzo c'è anche questa incognita in più Gualdo Casa Castalda va ad Amelia che ha perso domenica per cui sicuramente cercherà di fare il massimo per non perdere perlomeno la seconda partita di fila e poi il Campitello va in casa di un Viole che è scottato dalla sconfitta di domenica che sicuramente ha bisogno comunque di punti per togliersi un po' dai guai perché là sotto cominciano a fare i punti il Pelignano lo Spello l'Olimpia che ha vinto il recupero è già addirittura in zona playoff per cui si sta accorciando si sta accorciando per cui insomma sono tre trasferte tutte e tre belle toste bene tutto anche per il campionato di promozione regionale Girone B è arrivato il momento state attenti state concentrati non vi perdete perché è il momento di numeri e statistiche poi le ripetete tutti giusto Stefano dal primo all'ultimo noi ci vediamo a memoria come le tabelline andiamo col jingle della nostra rubrica diamo i numeri per la seconda puntata offerta da Villa del Sole Montone difesa di ferro sono cinque turni consecutivi che il Montone non subisce reti in cui ha totalizzato tre vittorie e due pareggi un'imbattibilità che sale addirittura a 514 minuti ultima segnatura al passivo in Montone 2 Pietralunghese 1 al 26esimo della prima frazione di gioco Paolone Quondam dei record con la rete realizzata al Sanzisto diventa con 86 segnature all'attivo il bomber più prolifico della storia della Narnese chapeau per bomber Quondam Pontevecchio è la sua vittoria che non riconosce con la sconfitta di Foligno salgono addirittura a 13 le gare consecutive senza conseguire il bottino pieno la cura Grilli pur nella difficile gara di Foligno ancora non ha funzionato nelle 13 giornate senza vittorie solo 6 punti frutto di 6 pareggi e ben 7 sconfitte subite la speranza appunto si chiama ora Luca Grilli il Foligno che grande amore che fortino 23 gare su 23 negli ultimi due campionati senza sconfitte al passivo successivamente al cambio di denominazione da Nova Folginium a Foligno la neonata società non ha mai perso sul campo amico e quando si dice appunto fattore campo questo è l'esempio lampante Corciano altresì un record incredibile al negativo nella storia recente mai nessuno aveva collezionato solo 2 punti in 17 gare tra i campionati di eccellenza e di promozione la buona prova di Trasimeno non intacca tuttavia il record di matita nera della serie B Umbra Angeletti del Gualdo Casacastalda super bomber di scorta l'attaccante classe 95 con la rete siglata domenica al viole realizza il quarto centro stagionale in soli 359 minuti disputati una media di una rete ogni 89 minuti sul rettangolo verde di gara la Nestor la Nestor e la sua grande serie positiva dei record sono 23 le gare consecutive senza sconfitte in campionato l'ultima è targata 11 marzo 2018 pensate al blasone di Foligno appunto Foligno 2 Nestor 0 successivamente 15 vittorie 8 pareggi e sole 10 reti al passivo per la squadra guidata dal tecnico Andrea Montecucco in 23 partite giocate il palazzo ed una speranza di salvezza casalinga con la vittoria maturata col nord c'è solo una la sconfitta maturata in casa per la squadra sisate con 3 vittorie 5 pali pari e una gara persa condita da sole 6 reti subite marchio di fabbrica difesa e contropiede di Andrea Gambacorta che prova a portare in salvo anche il palazzo Dulcis in funta andiamo a dare quelli che sono stati i numeri dall'eccellenza alla prima categoria 131 reti totalizzate nelle 54 gare disputate due non si sono giocate nel campionato di prima categoria Girone C media di 2,42 segnature a partita solo 18 vittorie casalinga 14 pareggi e ben 27 vittorie esterne alla faccia del fattore campo numeri numeri importanti sia in positivo che in negativo quello che mi ha colpito tantissimo è questa Nestor che 23 partite di fila senza perdere e con sole 10 reti al passivo davvero tanta roba Riccardo la Nestor oltre che una rosa importante veramente importante per la categoria ha una grande guida tecnica che probabilmente è quella che gli fa fare il salto di qualità in più una società sicuramente molto organizzata e che sa dove vuole arrivare quindi ripeto sarà una bella lotta con il Gualdo fino alla fine che vinca il migliore Stefano diciamo il dato che per me risalta di più è quello dei gol di Angeletti perché insomma 4 gol è una media quanto hai detto un gol ogni 89 minuti però quasi sempre da subentrato per cui insomma significa che questo ragazzo è pronto può giocare anche quei classici 10 minuti e comunque riesce a fare la differenza per cui vedo questo un po' come numero da sottolineare tra i tanti che hai dato e che sono comunque tutti interessanti come anche i 23 del Foligno che insomma è un dato importante assolutamente Gabriele una due parole ma forse sono poche da spendere su Bomber Quondam se penso a Ciugarelli quando lo incontrai nel prepartire di Pontevecchio Spoleto quest'anno parlando di più o meno andiamo sul discorso degli attaccanti e mi disse che lui li ho fece buttare in attacco quando era Todi e lui allenava il Todi era il secondo anno che allenava credo aveva smesso 86 gol è il miglior marcatore dell'Arnese poi è un giocatore che ripeto insieme a Francioni del Foligno e secondo me potenzialmente perché è fortissimo Castelletti da Subasio forse l'unica tre prime punte vere in eccellenza forse adesso non vorrei dire parlando davvero di centravanti puro centravanti bova puro e la dice lunga poi alla fine è 86 credo 85 32 33 anni quindi ce n'è neanche no tanto tu fuori concorso anto a proposito di numeri dai che tu disegni tutto dimmi non far finta che non lo sai quanti gol hai fatto in carriera no no ho detto che ne parlavo guarda l'altra sera al campo con i miei compagni e lo dico quando smetto perché io poi sono molto scaramantico quindi già non fanno benissimo le cose no però diciamo che è un buon numero sono contento ovviamente li so tutti uno per uno lo so lo so ti posso dire anche forse il minuto no si sbaglia qualcosa però insomma me li ricordo tutti so quanti sono perché ma io penso che tutti gli attaccanti puoi anche non ce l'hai le maglie quelle pronte 100 200 300 no quelle non le ho mai fatte perché sta aspettando di arrivare al 100 no no quella abbiamo superato però però non le ho fatte mai perché poi non le ho fatte mai quindi però sono contento diciamo che nel mio piccolo insomma qualcosina ho fatto volevo aggiungere un numero non ce l'ho fatta quindi per scaramanzia per non farmi tacciare di situazioni sgradevoli mi collego scusami Simone al discorso a quello che ha detto Stefano faccio i complimenti a Leonardo Angeletti proprio perché innanzitutto il gol di domenica è importante lo conosco bene ci ho passato l'anno l'anno scorso insieme quindi viaggiavamo anche insieme e sono molto molto contento per lui al di là che ha fatto un bel gol gli ho fatto i complimenti anche in privato poi è un ragazzo che si allena sempre a 3000 all'ora cioè io questo glielo ho sempre riconosciuto anche l'anno scorso ha trovato poco spazio però ogni allenamento era sul pezzo e quindi anche chi giocava insomma giocavo io giocavo ti faceva allenare al massimo perché avendo se hai dietro uno che si allena così a 3000 all'ora anche te che giochi è uno stimolo importante è uno stimolo in più perché sennò questo entra a posto tuo quindi faccio veramente i complimenti a Leonardo perché se lo merita sta sempre sul pezzo quindi sono convinto che farà bene insomma da qui alla fine adesso non ti montare la testa no esatto muoverò ecco adesso sta calma mani pedala bene quindi possiamo passare ora Stefano se sei d'accordo al campionato di prima categoria andando a dare lettura dei risultati del torneo di prima categoria girone A diciassettesimo turno Carbonesca Ponte Pattoli 1 a 0 Castello FC Calzolaro Broccato in casa 0 a 0 Cerbara Monte Castelli 2 a 2 Madonna del Latte San Secondo Resina 1 a 1 a Monte Acuto Padule San Marco batte Monte Acuto 3 a 0 a Pierantonio Blitz del Val di Pierle che spugna il campo blasonato di Pierantonio per 3 reti a 2 Tigrotti Morra Tiberis 1914 3 a 2 Virtus San Giustino Promano 2 a 0 Classifica Castello in testa quota 40 Corcia Virtus San Giustino a 39 a seguire Padule San Marco e Madonna del Latte San Secondo 31 Pierantonio 29 fuori dalla zona playoff Tigrotti Morra Carra 24 Carbonesca 25 pardon Carbonesca 24 Calzolaro 23 Cerbara 22 Monte Acuto 21 Promano 20 Tiberis 1914 19 Monte Castelli Val di Pierle 14 Resina 12 Ponte Pattoli chiude la classifica con 11 punti insomma giochi riapertissimi Stefano in testa assolutamente assolutamente perché Castello si sapeva che aveva una brutta cata tabellare perché Calzolaro è una squadra attrezzata che è partita male e ancora sente il peso di quelle se non sbaglio prime 5 sconfitte consecutive le prime 5 giornate ha recuperato però ovviamente è un po' attardato però ha una squadra in grado di far bene e domenica contro il Castello l'ha dimostrato la Virtus San Giustino è una squadra che è partita a testa bassa quest'anno perché vuole assolutamente riprovarci riprovarci in maniera determinata ed è lì ed è a un punto dall'FC Castello tra un paio di domeniche se non sbaglio c'è lo scontro diretto che magari non sarà determinante perché poi alla fine le partite decisive sono un po' tutte però sicuramente è uno stimolo per loro essere arrivati a meno uno Riccardo una piccola battuta al volo su questo girone c'è una nobile decaduta del calcio umbro il Pierantonio che sta provando una lenta risalita ricordiamo partita della terza categoria la denominazione era Pierantonio Cosmos una squadra che è un attaccante capocannoniere del campionato a Tiff con 19 reti domenica non ha segnato che ha più del 50% del potenziale offensivo di questa squadra sulle sue spalle la Tiff insomma è un giocatore che ha già calcato anche altri palcoscenici e altre categorie a Pierantonio so che stanno stanno ricostruendo stanno ricostruendo un pochino dai ceneri però so che si è formato un bel gruppo di dirigenti io ho anche parecchi amici là e anzi gli faccio un grande in bocca al lupo e mi hanno detto che appunto è rinata un po' di voglia è rinata un po' di voglia in paese quindi anche loro non dico quest'anno ma credo che il prossimo anno abbiano ambizioni anche importanti bene proseguiamo con il girone B del campionato di prima categoria ma non prima di aver dato lettura del diciottesimo turno anche del girone A Calzolaro Pierantonio Monte Castelli Madonna del Latte San Secondo Padule San Marco Virtus San Giustino Ponte Pattoli Monte Acuto Romano Carbonesca Resina Valdipierle Tiberis 1914 Castello FC Tigrotti Morra Cerbara e ora passiamo realmente al torneo di prima categoria girone B dando lettura dei risultati maturati sui campi nella diciassettesima giornata Athletic Bastia Pontevilla 2 a 1 Magione Vis Nuova Alba 1 a 1 a Martinea Santa Sabina batte Martinea 2 a 0 a Moiano Vitellino Espugna Moiano per 1 a 0 altra vittoria esterna per il Mantignana Passignano per 1 a 0 Piegaro San Nicolò 2 a 2 Real Deruta Real Virtus 0 a 2 Tuoro Sant'Arcangelo 1 a 1 per una classifica che vede al comando a quota 40 punti il Mantignana segue l'Atletic Bastia a 35 si sta distanziando sempre di più dalla vetta il Moiano delle tecniche Oscapicchi a quota 31 Santa Sabina 29 Real Virtus che entra per la prima volta in stagione in zona playoff a quota 28 Magione 24 Vis Nuova Alba e Pontevilla 23 Passignano 20 Tuoro Sant'Arcangelo 19 Piegaro 18 Vitellino 17 San Nicolò 16 Real Veruta 15 Chiude la classifica il Martinea con 11 punti Stefano Mantignana che sta in questo momento spiccando davvero il volo ma l'Atletic Bastia non molla tra virgolette dei miracoli non molla sì esatto il Mantignana domenica ha vinto una partita non semplice tra l'altro l'ha vinta proprio le ultime battute un gol di Cenerini l'Atletic Bastia ha avuto ragione di un Pontevilla che diciamo forse meriterebbe qualche punticino in più in classifica firmando una bella rimonta invece il risultato che spicca un po' gli occhi è questa sconfitta del Moiano Casalinga però c'è anche da dire che il Videllino quando c'ha Sacco a disposizione è difficile che fallisce l'obiettivo non è un dettaglio per cui diciamo quando c'è Sacco il Videllino è una squadra diciamo da alta classifica quando non ce l'ha ovviamente è uno che in prima teoria fa assolutamente la differenza giocatore che spostava gli equilibri con la sua fisicità anche nel torneo di eccellenza nella retrocessione del Trasimeno comunque si era distinto e l'anno dopo Castel del Piano disputò davvero un gran bel campionato Gabriele Moiano che era partito insieme al Mantignana con i favori del pronostico due attaccanti che per la categoria non hanno bisogno di presentazioni come Biscaro Parrini e Storani periodo negativo di grande difficoltà in questo ultimo periodo forse è dovuto anche agli infortuni ma Moiano che si sta tardando molto dalla vita Sì poi non scordiamoci che comunque sia davanti c'è il Mantignana che ha un settore giovanile e poi come Rosa ha Beffiori difensore centrale e stanno sinistro Radiax Perugia davanti una coppia con Minelli e Cenerini penso che in prima categoria in pochi ce l'hanno il Moiano sta perdendo momentaneamente un po' di terreno però anche è vero che parlando con Michele Scavicchi qualche tempo fa aveva molto infortunati non avendo un settore giovanile Storani la logistica magari non aiuta adesso è dalle parti del lago penso quindi non sono anche a livello logistico non è facilissimo trovare giocatori mi trovano sempre un po' di difficoltà spesso si va ad attingere magari dalla Toscana non so gli obiettivi magari è scomodo diciamo per la zona del Perugino però al momento una classifica che li vede è terzi in classifica a meno nove dalla prima che devo dirti sicuramente poi vedo che sia rilanciata anche la Rea Virtus che ha vinto fuori casa che ha preso anche Cristian Feliciani il portiere che è stato il fratello del Bomber il fratello del Bomber anche questo è un cambiato comunque sia al quanto al quanto competitivo vedo perché anche Santa Sabina è quarta in classifica no sicuramente ripeto non conosco benissimo la realtà però parlando con Michele con il mister mister Scapicchi mi diceva che aveva dei problemi più che altro sugli infortuni su queste problematiche qua come ben o male ce ne hanno potuti però ripeto se non è in situazione qualcosa più corta purtroppo può pensare rispetto all'altra squadra ecco bene passiamo Stefano alla lettura del prossimo turno del campionato di prima categoria Girone B Mantignana Real Deruta Piegaro Moiano Pontevilla Tuoro Real Virtus Martinea San Nicolò Athletic Bastia Santa Sabina Passignano Vis Nuova Alba Sant'Arcangelo chiude la giornata Bitellino Magione ora passiamo al campionato di prima categoria Girone C approfitto per sollecitare rispetto al commento di questo Girone Antonio Brunelli che è uno dei protagonisti calciatore e attaccante del Trevi leggiamo prima i risultati del diciassettesimo turno per avere una contezza di quella che è stata la giornata e la situazione attinente a questo Girone Atletico Gualdo Fossato Clitunno e Grifo Sicillo Bevagna rinviate causa maltempo e neve Palazzo Norcia 2 a 0 Cascia 4 Castelli Valnerina 2 a 1 a Cannara Grifo Cannara San Luca 1 a 2 Superga 48 Vis Foligno 2 a 3 a Trevi Cerquito Batte Trevi 2 a 0 Virtus Foligno BM8 Spoleto 0 a 1 in testa alla classifica c'è la Vis Foligno con 38 punti seguono ma con una partita in meno Bevagna e Clitunno a 34 BM8 Spoleto Virtus Foligno 28 a seguire Cerqueto e 4 Castelli Valnerina altre due squadre a Braccetto a 24 ancora Superga 48 e Cascia 25 perdono Superga 48 e Cascia 24 quindi ci sono 4 coppie di squadre dal secondo posto fino al nono Palazzo 21 punti Grifo Sigillo 18 con una gara in meno Grifo Cannara 16 San Luca 15 Atletico Gualdo Fossato anch'essa con una gara in meno 14 punti Norcia 12 chiude la classifica il Trevi a quota 6 punti Antonio la domanda te la voglio fare perché sono trevano come te e ad essere onesto mi dispiace di questa situazione io ad inizio stagione mai avrei immaginato visto anche qualche calciatore di spessore come lo sei tu in Rosa sembrava dopo un periodo di grande crisi con l'arrivo di mister Fabiani c'erano stati se non sbaglio un paio di pareggi sembrava che si potesse risalire la china poi qualche altra sconfitta tu che la vivi a cosa è dovuta questa stagione negativa fino a questo momento della tua squadra è una domanda a cui faccio fatica a rispondere ma non perché il calcio tanto l'ho detto prima contano i numeri quindi inutile nascondersi dietro è evidente che ci sono dei problemi il perché ripeto è difficile da capire anche perché ce ne sono diversi insomma di perché secondo me il problema principale secondo me è un po' a livello di testa perché come dici quando parti con degli obiettivi e poi la stagione prende una brutta piega poi è difficile riaddrizzarla anche perché non tutti diciamo parecchi giocatori non sono abituati a fare campionati insomma di bassa classifica ripeto veramente una stagione nata con degli obiettivi poi insomma anche perché ripeto le tre partite di coppa ma anche il precampionato andava tutto molto bene la prima giornata vittoria dopodiché si è spenta la luce non lo so i problemi quando ci sono insomma sono un po' dappertutto e sono da dividere e da distribuire insomma da tutti in primis dai giocatori perché io l'ho sempre detto noi andiamo in campo noi ci mettiamo la faccia noi siamo i protagonisti in negativo e in positivo poi ovviamente insomma da dividere un po' anche con tutti quanti quello che insomma c'è di attualmente insomma ci siamo detti guardandoci in faccia anche ieri entro lo spogliatoio è che noi affrontiamo questo momento con grande dignità fino a che insomma non c'è la matematica noi cercheremo di dare una svolta a questa stagione a partire da domenica andiamo a Bevagna convinti di potercela giocare perché altra gara da ex sì altra gara da ex ce ne sono diverse insomma di gare da ex è un po' come Quagliarella esatto infatti quando vado a giocare mi dicono dice te conosco no ci ha giocato insomma purtroppo questo perché è giovane no veramente noi ogni battaglia da ogni gara da qui in poi sarà una battaglia per ripeto cercare di svoltare insomma questa benedetta stagione è difficile ne siamo consapevoli però finché la matematica non ci condanna abbiamo l'obbligo per lo meno di provare tanto Antonio scusa se ti interrompo ma è vero che c'è un distacco di sei punti ma sai che infilare delle vittorie in basso è diverso da recuperare lì in cima quello che può agevolare è che le retrocessioni dal campionato di prima categoria presumibilmente verosimilmente quest'anno potrebbero essere davvero poche vista la situazione delle nostre Umbre in D per cui ci fossero sole 5 barra 6 retrocessioni su 4 gironi già non arrivare ultimi significherebbe giocarsi qualcosa ma io ripeto mi prenderai per matto ma io questa è una cosa a cui non voglio nemmeno pensare quella di arrivare ultimi e te lo dico adesso che ho 6 punti quindi non è che però ripeto una stagione insomma storta noi a parte 2-3 partite veramente approcciate male e quindi sbagliate cioè non c'è stata una partita dove noi abbiamo preso o goleate oppure abbiamo demeritato ma c'è credimi ritestimone te una partita emblematica contro la Virtus Foligno partita dominata in largo e lungo poi scende la nebbia scende la nebbia sul campo nel momento in cui si tirava una punizione dal limite punizione 93esimo 93esimo la racconto perché nulla togliere alla Virtus che insomma ha vinto la partita ha preso i 3 punti 93esimo partita da parte nostra stradominata punizione al limite dell'aria scende una nebbia la partita è fantozza questo batte la punizione che andava in fallo laterale prende Fuso in testa autogol 1-0 per loro cioè una cosa allucinante Lorenzo Stoppini 0-1 Virtus Foligno bravissimo Stoppini che ha parato anche l'imparabile quindi veramente però vabbè bravi loro insomma perché la fortuna poi te la devi andare a cercare spesso è vero te la devi andare a cercare altro problema insomma noi è anche questo che magari non ci andiamo nemmeno a cercare insomma sta fortuna che ci meriteremo anche un pochino chiudo una chiosa qui non ti do repliche su 10 reti fatte 7 portano la firma tua di Federico Angelantoni un po' poco affidarsi solo a due giocatori assolutamente no 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 assolutamente assolutamente per provare a fare qualcosa assolutamente sì Stefano a proposito di Folignate la Virtus la Vis Foligno perdono non perde un colpo è vero che è una rosa notevole ma affrontava una superga 48 che è una squadra attrezzata Riccardo insomma questa Virtus è che la Vis è probabilmente la favorita del campionato ma ma dovrà sudarsela diciamo è una delle favorite secondo me anche la Griturno io vedo ancora però secondo me quella della vittoria domenica della Vis Foligno è veramente una di quelle pesanti intanto perché ha vinto in casa della Superga che stava rincorrendo no di rientrare nella zona playoff ed ha un organico a sua volta importante e poi perché potrebbe anche sfruttare i due recuperi che devono affrontare Bevagna e Criturno perché comunque avverranno sì ma poi avverranno infrasettimanali per cui insomma se non sbaglio la Criturno dovrebbe recuperare il 30 e probabilmente il Bevagna ha già il 23 oppure il 30 anche loro non lo so però insomma visto quando devi giocare poi l'infrasettimanale sono turni un po' complicati già la Criturno so che gioca alle 15 per cui insomma non so se avrà tutti i giocatori a disposizione comunque deve andare affossato probabilmente quella vittoria della Vis Foligno la vedo come vale un po' più di tre punti diciamo a proposito di Spolettine Riccardo si rilancia anche la BM8 con questa vittoria tra l'altro ricordiamo è ancora in lizza per la coppa di prima categoria nel semifinale la stessa superga 48 mi avviso a tutti i crismi per potersi giocare le sue carte di accedere alla griglia playoff no assolutamente ma sia le Spolettine e sia le squadre della Valnerina perché nomino anche a questo punto la Quattro Castelli e il Caccia che è in netta ripresa anche perché poi adesso ha ripreso da poco Pirro ex Spoleto quindi comunque ripeto le Spolettine potranno dire la loro fino alla fine secondo me perché Cliturno sicuramente si giocherà il campionato fino alla fine la BM8 rientrerà molto probabilmente nella griglia dei playoff così come secondo me c'è la superga una squadra nettamente attrezzata veramente bene assolutamente assolutamente sì quindi questo è un campionato veramente molto molto livellato e anche per la vittoria finale per carità la Visfoligno a giocatori che nettamente di altre categorie che però probabilmente non so se sono calati del tutto nella realtà quindi ripeto forse squadre magari con giocatori di categoria non lo so sarà l'entusiasmo del Bevagna il grande spirito di appartenenza del gruppo la stessa Cliturno che ha ormai un organico ben definito strutturato da anni ma ultimo a Chiosa sul Girone C voglio coinvolgere Gabriele Mela io un plauso lo faccio al San Luca perché sta lottando con le unghie con i denti con i propri mezzi con tante difficoltà ma una grande vittoria a Cannara che li rilancia per la salvezza anche diretta no sicuramente poi io li conosco degli amici ci giocano ci hanno giocato sono tra i quali un po' di parte però certo rimborsi non zero sotto zero hanno pescato e faccio i complimenti al direttore sportivo Battistini Dino Paris 92 talento del Montefalco stava alla Virtus l'anno scorso 10 gol zero euro 10 sui 24 sui 14 del San Luca anche loro hanno avuto dei problemi sentendo qualche volta i dirigenti qualche giocatore infortuni qualcuno che purtroppo lascia via perché anche quest'oggi la serietà di qualche giocatore e poi San Luca che come giocatore importante ha anche Simone Castellani che è il proprietario di Villa del Sole nuovo acquisto del San Luca calcio quindi complimenti anche a Simone per questa vittoria andiamo a dare velocemente lettura del prossimo turno e successivamente al piccolo riassunto del campionato di prima categoria Girone D e poi ci saluteremo prossimo turno del campionato di prima categoria Girone C che vedrà Contrapporsi 4 Castelli Valerina Atletico Gualdo Fossato Bevagna Trevi BM8 Spoleto Cascia Cerqueto Palazzo Norcia Grifo Sigillo San Luca Clitunno Virtus Foligno Superga 48 e Vis Foligno Grifo Cannara ora andiamo a dare lettura dei risultati della 17esima giornata del campionato di prima categoria Girone D Colonia San Gemini 1 a 0 Del Nera Ammeto 2 a 1 Lugnano in Teverina Guardia 1 a 3 Nuova Tiglianese Real Sant'Orsola 1 a 3 Real Avigliano Limpia Pantalla 1 a 2 Romeo Menti Tiber 1 a 0 Colpo Gobbo della Proficulle che Spugna Todi per 1 a 0 Via Larga Marciano Castello 1 a 1 per una classifica che vede al comando a 40 punti la Romeo Menti segue Tiber 38 Proficulle 34 Todi 31 Real Avigliano 26 Guardia 26 Colonia 26 Via Larga Marciano e Del Nera 23 Castello 20 Ammeto Real Sant'Orsola 19 Olimpia Pantalla Lugnano in Teverina 17 San Gemini 14 Chiude la nuova a Tiglianese con 7 punti Stefano un commento veloce sul girone in testa ora Romeo Menti e chiude il fanalino di coda nuova Tiber Velocissimo Diciamo Domenica la vittoria la Romeo Menti è tornata in testa per cui una vittoria importante contro uno scontro diretto contro la Tiber un successo quello della Romeo Menti che ha un po' rilanciato anche la Proficulle perché la stessa Proficulle che ha vinto a Todi adesso è a meno 6 dalla prima posizione per cui diciamo il terzetto si è un po' accorciato le distanze Todi un po' attardato non so se riuscirà davvero a rientrare nella lotta per il primato per cui diciamo in questo momento le tre squadre che sono lassù insomma sono quelle un po' più accreditate per giocarsi la vittoria finale beh sì poi tra l'altro a Figulle insomma è anche complicato sempre giocare in un ambiente piuttosto caldo perché la difoseria molto caliente quasi sudamericano sì sì assolutamente hanno sempre questa torcida diciamo veramente è un bell'ambiente lì insomma gasano tantissimo l'ambiente alla garra proverbiale della Pro Figulle e della sua grande muraglia davvero incredibile guardatevi qualche spezzone qualche video della Pro Figulle che tra l'altro spesse volte l'abbiamo visto sul tuo portale settecalcio.it sì sì beh Figulle chi volesse sono amici di sette calci diciamo ebbene anche per per questa puntata il prossimo turno l'hai letto? è tutto anzi esatto grande Stefano più che una spalla sei quasi diventato un collo quasi e quindi leggiamo anche quello che è il prossimo turno del campionato di prima categoria girone di Ammeto Todi Castello Real Avigliano Del Nera Via Larga Masciano Olimpia Pantalla Guardea Pro Figulle Lugnano in Teverina Real Sant'Orsola Romeo Menti San Gemini Nuova Tiglianese e la Tiber vedrà contrapporsi sul terreno amico il Colonia e ora è davvero tutto un ringraziamento speciale va a tutti i nostri sponsor a coloro i quali hanno aderito a questa iniziativa che speriamo sia di vostro gradimento la prima trasmissione web tv che tratta calcio regionale appunto Umbro dall'eccellenza alla prima categoria ideata dalla redazione di 7calcio.it con a capo il direttore Stefano Baiani un saluto appunto a te Stefano arrivederci al prossimo appuntamento e complimenti per la conduzione un saluto grazie anche a Riccardo Ciambottini presidente dello Spoleto Calcio grazie a voi per l'invito e buonasera un ringraziamento anche a Gabriele Mela direttore sportivo del Casa del Diavolo e un in bocca al lupo per una pronta risalita nel campionato di promozione grazie a voi e complimenti per la trasmissione e buonasera da tutti i telespettatori e un ringraziamento speciale anche al mio compaesano Antonio Brunelli anche compagno di qualche battaglia calcistica e davvero di cuore buona fortuna e un in bocca al lupo sentito per questo finale di stagione che possa proiettare te e il tuo Trevi verso altre situazioni di classifica viva il lupo e grazie a voi per l'invito buona serata a tutti è tutto da Villa del Solio di Trevi ringraziamo Simone Castellani un saluto a tutti arrivederci alla prossima puntata di Pinco Pallone sempre in nostra compagnia grazie a tutti